buonasera a tutti allora è passato un mese più di un mese da quando ho iniziato questo canale di youtube è ora di fare un piccolo un piccolo bilancio e anche di capire come è possibile migliorare i contenuti e proporre cose nuove diciamo che io ero partito con l'idea di fare un canale per divertirmi quindi per cimentarmi nei video oltre che nelle foto e per raccontare un pochettino quello che faccio ma soprattutto per il piacere di fare e di editare dei video e quindi di completare un pochettino questo hobby e quindi ho iniziato in questo modo penso che tutti quanti inizino così nessuno incomincia questo tipo di attività tra virgolette aspettandosi chissà che è chiaro che però soprattutto questa tipologia di video presuppone un impegno notevole perché bisogna uscire di casa bisogna trovare dei posti interessanti filmare il luogo e filmare se stessi mentre si fa l'attività tentando di spiegare anche di fornire dei contenuti interessanti e poi c'è tutta la parte fotografica quindi c'è la necessità di intanto fare bene foto ma comunque sia di post produrle dopo e inserirle nel video insieme alla musica al montaggio e a tutto il resto quindi quando uno si impegna in questo modo è abbastanza sconfortante poi metterlo su youtube pubblicarlo e non avere visualizzazioni che è molto diciamo io penso che capiti a tutti che sia per tutti così perché chiaramente un canale nuovo non non ha visualizzazioni cioè non viene pubblicizzato da youtube stesso nei confronti degli altri utenti e quindi questo io non pensavo diciamo così di rimanerci così male quando pubblico questi video e poi non hanno non hanno molto successo quindi il mio buono buon proposito di non chiedere like di non chiedere sottoscrizioni al canale eccetera probabilmente finirà qui perché oltre ad essere interessato ad eventuali osservazioni ad eventuali commenti sui sui video che pubblico mi fa mi fa piacere sicuramente se qualcuno lo reputa talmente interessante da iscriversi al canale oppure appunto di da porre il mi piace al video quindi diciamo così su questo aspetto penso che mi adeguerò un pochettino a quello che fanno un po' tutti però devo devo dire che sono abbastanza soddisfatto perché sono riuscito a uscire con una certa costanza sono comunque molto timido e molto impacciato davanti alla fotocamera sono comunque un direttante quindi anche i prodotti che pubblico chiaramente hanno una qualità che è inferiore a chi lo fa di professione ma forse è proprio questo il punto di forza cioè è un spronare tutti gli hobbisti che magari non sanno o non vogliono diciamo così migliorare il proprio livello o semplicemente non reputano di essere abbastanza bravi per per aprire un canale o per pubblicare le proprie foto oppure cercano delle tecniche o delle procedure o dei modi di fare da persone che hanno i loro stessi problemi che fanno le loro stesse cose perché è chiaro che la maggior parte dei fotografi che pubblicano dei contenuti interessanti su youtube è gente che lo fa di professione quindi è gente che può uscire quando vuole che ha tutto il tempo di fare le proprie produzioni al meglio e fa parte del proprio lavoro produrre un qualcosa di professionale magari nel mio piccolo posso dare qualche spunto a qualche hobbista su qualche tecnica o su qualche appunto procedura modo di fare modo di uscire modo di pianificare le uscite insomma di dare il mio il mio contributo a chi è nella mia stessa situazione diciamo ci ho detto come intendo proseguire nella gestione di questo canale sicuramente continuerò a uscire però chiaramente è impensabile uscire con una frequenza di una volta a settimana con una certa costanza cosa che comunque mi interesserebbe fare ma non è semplicemente non è fattibile invece integrerò questi questi contenuti che già ci sono sul canale che ci saranno anche in futuro con fondamentalmente due categorie di video la prima rappresenta la presentazione di pezzi di equipaggiamento che io uso non saranno delle recensioni tecniche saranno semplicemente una presentazione dell'oggetto e una spiegazione del perché ho scelto quell'oggetto come lo utilizzo e quali sono i suoi pregi e difetti nell'utilizzo è chiaro che un minimo di tecnica ci sarà però diciamo così farà sempre parte di una di una spiegazione sul cosa mi serviva e sul perché ho scelto quell'oggetto lì quindi sarà poco a poco tecnico ci saranno poche caratteristiche tecniche appunto del resto youtube è pieno di questo genere di video che sono molto interessanti molto completi e vanno proprio nel dettaglio di tutte le caratteristiche gli obiettivi macchine fotografiche cavalletti zaini e quant'altro quindi questa sarà una prima categoria di video che farò una seconda categoria invece riguarderà pillole di tecnica fotografica quindi saranno argomenti molto semplici molto limitati anche che potranno spaziare tra la tecnica fotografica propriamente detta cioè sul come si scattano determinate foto ma più che come si scattano determinate foto quali sono certi aspetti particolari in determinati tipi di foto inoltre ci saranno pillole di post produzione quindi sceglierò degli argomenti particolari e farò dei video su come ottenere determinati effetti o determinati workflow almeno quelli che adotto io sempre da direttante sempre da non professionista sui programmi che uso e quindi anche in questo caso magari può dare qualche spunto a qualcuno quindi spero che che facendo così questo canale diventi sempre più gradito a voi sono sempre a disposizione per per eventuali suggerimenti o anche critiche però cominciando da questo video mi raccomando di sottoscrivere il canale se vi piacciono questo tipo di contenuti e di mettere un mi piace o un non mi piace ai video quindi per il momento vi saluto io adesso sono in un posto che vedrete in uno dei prossimi video quindi vi auguro buona serata ciao a tutti ciao a tutti Autore dei sorrisi